Serie C Il calcio in primo piano con il Gubbio che nonostante un'ottima prova esce sconfitto 2-1 dal Rocco di Trieste contro la Triestina nella prima giornata di campionato. La Bardati avanti dopo 10 minuti con Giorico che sfrutta un errore di sbaffo ma al 33esimo Munoz rimette il computo in parità. L'equilibrio permane nella ripresa fino a 10 minuti dalla fine quando Granocce in contropiede insacca il gol partita. I rosso-blu torneranno ora ad allenarsi domani in vista della prima casalinga, fissata per domenica prossima alle 15 al Barbetti con la Virtus Verona. Da verificare il difensore Bacchetti uscito ieri dopo pochi minuti per infortunio. In settimana sono attese novità in ottica mercato, in arrivo un attaccante e anche un elemento per rinforzare il reparto arretrato. Il punto su Triestina-Gubbio e sul campionato con servizio della partita, intervista agli allenatori, analisi dei tifosi, stasera alle ore 21 su TRG in uno speciale fuorigioco. E nelle altre partite della giornata del girone BDC da segnalare i roboanti successi di Carpi e Reggiana, i blitz esterni di Padova, San Benedettese e Suttirol, i successi interni di Fermana e Rimini. Il Piacenza non va oltre il pari a reti bianche sul campo della matricola Arzignano 0-0 anche tra Modena e Vicenza. Spostiamoci in B dove il Perugia nella prima giornata di campionato va subito sotto nel serale con il Chievo che passa al Curi grazie a Meggiorini, ma poi rimonta grazie a due calci di rigore trasformati entrambi da Iemmello e strappa così i primi tre punti stagionali. Vediamo i gol e sentiamo anche la disamina di Mister Oddo a fine partita. Abbiamo ridimostrato per la seconda volta di avere un grande carattere, perché partire all'inizio, prendere un gol dopo due o tre minuti, tre minuti, andare sotto e reagire come abbiamo reagito, soprattutto nel secondo tempo, prova di grande carattere contro una squadra estremamente forte, perché purtroppo, io lo sapevo, questi per almeno sette undicesimi, sei undicesimi, sono tutti i giocatori che negli ultimi dieci anni hanno giocato in Serie A. e quindi grandi letture, grande esperienza, grande qualità e lo hanno dimostrato in campo perché ci hanno anche messo in grande difficoltà. Probabilmente è un risultato che dal punto di vista della partita in sé per sé non è neanche così meritato, meritato dal punto di vista del carattere e della reazione di squadra, quindi uguale bel segnale, è un segnale importante perché nel calcio a me piace essere belli, ma a volte bisogna anche soffrire e lottare, questa squadra l'ha fatto, quindi sono soddisfatto sotto questo punto di vista. Dal punto di vista del gioco dobbiamo ovviamente migliorare tanto o la percezione che questi ragazzi abbiano anche un po' timore di giocare con serenità sul campo perché le condizioni sono quelle che sono e quindi trovo che magari in allenamento delle cose vengono con più fluidità e in partita abbiamo un po' più di difficoltà. Però queste cose si superano attraverso il lavoro, l'importante è lo spirito, l'importante è che la squadra carattere e l'otto. Giornata di Coppa invece in Serie D ed eccellenza in D il Foligno viene eliminato dalla competizione al Blasone, passa il Tolentino per 6 a 4 ai calci di rigore decisivo l'errore di Capitan Petterini dopo che i regolamentari erano terminati sull'1-1. Il derby Umbro va invece al Cannara capace di espugnare 3 a 2 il Casini di Trestina. In eccellenza il Lama regola 2 a 1 il Gualdo Casacastalda, vincono anche Assisi su Basio 2 a 1 sullo Spoleto, Ellera per 2 a 0 sul Sanzisto e Ducato 1 a 0 sul terreno dell'Angelana. Negli anticipi successi di Trasimeno 4 a 1 sulla Nestor e Tiferno per 2 a 0 sul Sansepolcro. rinviata a Narnese-Orvietana per impraticabilità del campo. Apriamo ora l'argomento Trofeo Fagioli con la 54esima edizione della celebre crono scalata e gubina conquistata dal driver trentino Christian Merli che bissa così la vittoria ottenuta sotto i 5 colli al Master europeo dello scorso ottobre. Stasera nel corso dello speciale fuori gioco alle 21 su TRG, reso conto dell'evento, interviste ai protagonisti curati da Roberto Barbacci, oltre alle parole del rallista Miki Biason che ha ricevuto il Memorial Barbetti. Intanto facciamo il punto su questa edizione del Trofeo Fagioli. Il canto del Merli parte seconda. Dopo il trionfo nel Master europeo FIA-IL dello scorso ottobre, splenda ancora la stella di Christian Merli che sull'Osella FA30 Evo Zaitek fa proprio un 54esimo Trofeo Luigi Fagioli, emozionante anche per l'avverso in condizioni meteo nella tre giorni sotto i 5 colli. Il Trentino, campione in carica, ha vinto a Gubbio gara 1 sull'Asciutto e gara 2 sul Bagnato, aggiudicandosi per la prima volta la classifica assoluta della classica cronoscalata Umbra davanti a Simone Fagioli e Danny Zardo. Il nono round del campionato italiano Velocità Montagna 2019, organizzato curando i minimi dettagli dal Comitato Eugubino Corsa Automobilistiche, ha emozionato fino alla fine, vivendo una domenica ricca di sfide ravvicinate e spettacolo in una Gubbio in bilico, tra sereno e sole al mattino e pioggia al pomeriggio, quando gara 2 è stata appunto disputata sul Bagnato. Organizzatori e direzione gara, guidata da Fabrizio Fondacci, hanno affrontato tutti gli imprevisti del meteo, apportando le dovute contromosse e l'intero evento ha potuto concludersi regolarmente. Confermato l'altissimo livello logistico organizzativo, grazie al quale il trofeo Fagioli, ancora una volta ospitato al meglio numeri da record, come testimoniano i 282 piloti ammessi al via, special guest è il pubblico delle grandi occasioni, che ha riempito la zona paddock partenza in centro storico e le tribune naturali dei 4.150 metri del percorso di gara della città al valico di Madonna della Cima. Merli e Losella hanno vinto il braccio di ferro innescato, già sabato in prova, con Fagioli allungando sotto la pioggia di gara 2 dopo una gara 1 mozzafiato, nella quale il pilota Trentino aveva colto il nuovo record del percorso in 1.32-31, inseguito ad appena 7 centesimi dal rivale fiorentino della norma. Merli, vincitore anche del gruppo E2-SS, ha trionfato con il tempo totale di 3.23-61. Alle spalle dei due battistrada, con Pagioli che oltre al secondo posto assoluto ha vinto il gruppo E2-SC, Zardo ha conquistato un terzo posto assoluto per lui importante in ottica tricolore. Nella classifica di campionato, infatti, il pilota trevigiano della norma avvicina il sassareso Marmagliona, che sull'Osella PA 2000 Honda, prima vettura di classe 2000 al traguardo, ha concluso al quinto posto assoluto, superato sul bagnato di gara 2 dall'austriaco Christoph Lampert, quarto assoluto con l'FA 30 Zaytech alla sua prima volta sul tracciato di Gubbio. Il trofeo Mauro Rampini, dedicato dal cieca all'indimenticato pilota e imprenditore gubino e riservato al primo pilota Umbra altaguardo, è andato all'esperto pilota locale Gianni Urbani, quindicesimo assoluto e vincitore del gruppo CN, nel quale ha svettato in entrambe le salite, mentre il giovane Giovanni Rampini, figlio di Mauro, è stato costretto a ritiro in seguito a una toccata sul posteriore della sua PA21 Evo in gara 1. Nel gruppo E2SH vince il terramano Marco Gramenzi, mentre il gruppo GT è stato dominato dal foggiano campione in carica Lucio Perugini. Nel gruppo E1 vince al fotofinish l'orvietano Daniele Pelorosso, mentre la perugina Deborah Proccolini conquista in casa la Coppa Dame su Mini Cooper. La gara nazionale delle autostoriche ha segnato la ventunesima Coppa Città di Gubbio, vinta per la prima volta dal trentino Adolfo Bottura al volante dell'Osella PA990. Al termine le premiazioni del trofeo fagiolo 2019 alla presenza anche degli assessori del comune di Gubbio, Gabriele Damiani e Nello Fiorucci, che si sono svolte per la prima volta sul palco centrale installato in piazza 40 Martiri. Al vincitore assoluto Cristian Merli e al miglior under 25 Luigi Fazzino sono stati tributati anche due trofei speciali realizzati dallo scultore e fotografo bolognese Giuseppe Moretti. In gara c'era anche il pilota e notatore Ettore Bassi, salito sul podio della classe E2 SC 1006 su Osella PA21 GRB Suzuki, mentre nell'ambito della manifestazione sabato e domenica hanno sfilato anche le GT iscritte a Raduno Ferrari in collaborazione con il Ferrari Club Italia, mentre il Memorial Barbetti è stato assegnato a Miki Biasion, due volte campione del mondo rally al centro servizi Santo Spirito. Una vera edizione da record dunque con la macchina organizzativa del Ceca, che dopo un meritato riposo è pronta già a volgere lo sguardo all'edizione 2020 di un trofeo sempre più di rilievo nel Circus Motoristico Internazionale. È tutto, grazie per averci seguito, a voi una buona serata.